Negli studi di TV City il sindaco della città di Tore del Greco Giovanni Palomba sta per concludersi il suo mandato amministrativo durato 5 anni, come vive questo momento e tracciamo un bilancio di questi 5 anni. Un saluto a tutti coloro che ci seguono a TV City, sempre siete in prima linea su tutti i fronti e mi fa piacere. 5 anni che risulto essere il quarto sindaco, quindi la quarta amministrazione negli ultimi 100 anni ad aver retto 5 anni a Tore del Greco. Penso che questo è il primo dato fondamentale, il primo punto di base. Ho retto, non è facile perché sono stati 5 anni dove abbiamo avuto la pandemia, il Covid, ultimamente dal mese di novembre l'accheraggio del Comune di Tore del Greco e devo ringraziare i dirigenti, tutta la macchina comunale, quel poco di macchina comunale che abbiamo ancora, se abbiamo retto siamo riusciti ad arrivare a fare le elezioni perché c'era il rischio addirittura, il rischio delle elezioni a Tore del Greco. L'accheraggio, ricordo 200 mila dollari chiedevano come riscatto tutte le problematiche possibili di immaginare. È stato un lavoro che da novembre ha bloccato il Comune di Tore del Greco e in questo anche tutto quello che era poi il lavoro che avevamo fatto con la preparazione del Natale. Io darò al nuovo sindaco un testimone, quello tra PICS e PNRR, cioè quelli che sono i fondi che l'amministrazione ha saputo intercettare, parliamo di intorno ai 70-75 milioni di euro. Alcuni sono già stati spesi, come l'efficientamento energetico per quanto riguarda i PICS, sarebbe quella che le strade illuminate, il campo sportivo, l'Americo Ligori, tutti i lavori che sono stati fatti al campo sportivo. Per quanto riguarda il PNRR è partita la gara per la piscina nella zona di Leopardi e il palazzetto dello sport, c'è già la gara sulla progettazione. Un asilo nido a Villa Guerra, i fondi intercettati, quella che è il riqualificare la Litoranea, le palazzine di San Antonio, riqualificare le palazzine. È tutto in essere, tutti i fondi intercettati. Sindaco, che significa amministrare una città come Tore del Greco? Io personalmente, se devo dire che mi è stato pesante fare il sindaco, dico no, perché la cosa più semplice è dire che è difficile, 87 mila abitanti, tutte le difficoltà, no. L'importante è avere una mente sempre chiara e precisa. Ho cercato di gestire in modo migliore, sia con la politica, sia con il gestionale, quindi i dirigenti e i dipendenti. Problemi giudiziari di una certa rilevanza, fortunatamente non ce ne sono stati. Devo rispondere ad un abuso difficile e ad un'altra situazione, sempre per quanto riguarda la RENU, ma sono questioni, diciamo così, per quanto mi riguarda, dove ho voluto anche dare la mia massima disponibilità alle autorità superiori. Non ho ancora nessun invio a giudizio, ma parteciperò da un cittadino comune, quindi senza nessuna carica, proprio per dare la mia massima disponibilità. Quali sono stati i risultati più importanti raggiunti in questi cinque anni e invece gli obiettivi mancati? I risultati sono quelli di aver preso quanti più fondi possibile immaginare. Ricordo ancora l'Istituto Orsi, abbiamo il finanziamento fatto esclusivamente con i fondi comunali, 2 milioni e 2, i lavori sono partiti. Penso che praticamente da parte del sottoscritto, ecco, la vicinanza a tutti quelli che sono state le scuole, la presenza all'interno delle scuole con tutti i dirigenti scolastici, con tutto quello che è l'associazionismo, tutto quello che si è potuto fare anche di cultura. L'amministrazione Palumbe, il sindaco Palumbe è sempre stato presente. Parliamo anche dell'ANU, senza problemi. Io quando sono diventato sindaco il 24 giugno eletto, il 26 giugno del 2018, mi dà la fascia, un prefetto, ricordo, un prefetto, Torre del Greco era a Kabul. Cioè c'erano cassoni in mezzo alla strada con quelle famose isole ecologiche piene di immondizie, ma che già venivano da mesi e mesi e mesi di commissario, c'era la totale disorganizzazione. Ricordo che in quelle che sono state le interviste con tutti i sindaci, tutti i sindaci di allora avevano come obiettivo togliere quei cassoni dalle strade. Questo risultato io l'ho avuto, di togliere quei cassoni, perché quei cassoni praticamente hanno portato anche persone non di Torre a venire a scaricare a Torre del Greco. I controlli, tutto quello che diciamo, ma i primi controllori dobbiamo essere noi stessi. Oggi io penso, rispetto a come ho preso la città nel 2018, penso che qualcosa in positivo c'è, la raccolta sicuramente c'è, bisogna migliorare lo spazzamento. Il nuovo sindaco ha questo primo obiettivo, ma l'obiettivo più importante è quello di rafforzare subito, immediatamente la questione dei dipendenti e quindi della forza lavoro al comunitore greco. Oggi c'è un bando di concorso, nato con l'amministrazione Paloma, di 32 assenzioni a tempo indeterminato. Io penso che è fondamentale fare in modo che si assume gente, però per assumere non è un privato, il comune ha del tempo e questo secondo me è il primo obiettivo che il nuovo sindaco avrà. Sindaco, qual è stato in questi cinque anni il momento più difficile che ha dovuto affrontare? Il Covid, il Covid è un qualcosa che praticamente la storia lo ricorderà nei libri di storia e noi come amministrazione e come comunitore greco ricordo che noi siamo stati i primi a chiudere, il sindaco è stato il primo a chiudere ogni scuola di ogni ordine e grado prima del governo Conte. Nel corso di questi cinque anni un evento straordinario ha riguardato la città di Torre del Greco, lo ricordiamo e l'ha vista protagonista la canonizzazione di Vincenzo Romano. Io sono il sindaco del Santo e penso che noi abbiamo vissuto quelle tre date, 7-14-21, il 7 quando praticamente il Beato Vincenzo ritorna da Procida a Torre, poi il 14 a Roma e il 21 poi siamo stati al Duomo di Napoli per i festeggiamenti. È una data che rimarrà nei libri della storia. Chiudiamo questa intervista con un messaggio ai cittadini e al futuro sindaco. Il messaggio al futuro sindaco, l'ho detto, la prima è quello di rafforzare i dipendenti dell'amministrazione, è fondamentale. Ringrazio tutti coloro che mi hanno collaborato in questi cinque anni e ai miei concittadini sapete che mi avete sempre visto o a piedi o sul mio motorino o con la mia macchina. Come mi avete incontrato nei cinque anni mi rincontrerete nel prossimo futuro della mia vita, tranquillo, sereno, molto spesso da solo a passeggiare per la mia città.